Ormai però Pasqua ce la siamo lasciate alle spalle ed è appena iniziata una settimana importantissima per Milano. Oggi infatti è iniziato il Salone del Mobile ed ecco le 5 cose da sapere sul Salone del Mobile. Il primo Salone del Mobile risale al 1961, quindi in tempi pre-IKEA. È un evento di cui si parla per 365 giorni l'anno, a volte 366, ma in realtà dura solo 5 giorni. È l'unico evento al mondo in cui per essere figo devi essere fuori, quindi io mi trovo molto a mio agio. Quello che conta davvero infatti è il fuori salone. Per parlare con gente sbevazzante al fuori salone, cercati su Google cose semi-interessanti da dire sul design. Non farti trovare impreparato, prediligi i termini tecnici e parole in inglese. E soprattutto non dimenticarti gli occhiali da ordinanza IPSER. Io sono pronta. Quest'installazione classicamente post-modernista è talmente in da essere out. Ah, questo trend ormai è troppo mainstream. Per me l'architettura di interni è più che in concert, è un lifestyle. Per me l'architettura di内 composta, non vedi Grazie a tutti